È un mashup nato in collaborazione con, come ti ho detto, in Fuori Onda, con un carissimo amico, si chiama Alain Red, è dalla zona di Milano, quindi meno male, tu giocchi in casa, ma ci siamo conosciuti così per caso, eravamo ad una serata a Milano nella zona di Lambrate, c'era un carissimo amico che faceva una serata lì, Alex Belloni, con il quale ho un'amicizia stupenda, io lo considero un fratello, perché con lui abbiamo fatto campionati nazionali alla Bahia Imperiale, il famoso campionato nazionale DJ Trip, dai quali sono nati i famosi Giorgio Prezioso, da dove sono nati tanti tanti grandi nomi, dei grandi periodi di quando la vera musica la faceva da padrona. Noi ci siamo conosciuti lì, così ridendo e scherzando, non lo so com'è che è andata, ma ci siamo subito presi di simpatia. Abbiamo iniziato a ridere e scherzare, parlavamo un po' del periodo anni 90, di quello che si avvicinava poi a quello che era il periodo del 2000, quindi l'arrivo poi della Italia Odessa, a differenza della commerciale classica, e dire ma ci sono delle sonorità che si sposano veramente bene l'una con l'altra, ma perché non provare a trovare un passo giusto che comunque rimanga tra quello che potrebbe essere un 140 BPM che potrebbe andare ad inserirsi nel periodo dei 2000 e quello che potrebbe essere il racconto di una storia del 90. Dei BPM tranquilli, siamo a 140 BPM, perché anche come dice un vecchio singolo di Robby Rossini e DJ Jump, che sicuramente ci staranno ascoltando, noi siamo quelli che vogliono vivere a 140, perché la vera musica, quella bella, quella che trasmette l'emozione, viaggia a 140 BPM. E' vero, è vero, è vero. Ora ragazzi, allora, io, vuoi dirlo tu? Vuoi dirlo tu il numero? Vuoi darlo tu? No, perché non ho in mano, come lo chiamo io, come hanno sempre preso in giro gli appunti delle giovani marmotte, non ce l'ho davanti? No, no, cioè se tu lo guardi dal monitor lo trovi, ma io c'è sugli occhiali, ma cosa vuoi che vedo? E allora, va bene, allora lo dico io. Allora, il nostro numero Whatsapp per mandare i vostri messaggi o i vostri vocali, perché possono mandare anche il vocale. E possono mandare anche i vocali. E allora, 391 459 3654, ragazzi. Quindi mandate i vostri messaggi o i vostri vocali che noi li leggiamo e li facciamo sentire in diretta. In diretta. Ma a proposito, ma di cosa vogliamo parlare questa sera? Allora, a prescindere da quello che è il mood un po' a livello musicale. Allora, allora, io, siccome io e te abbiamo... Amore, ma che bello, è per arrivata una foto di un bambino bellissimo che sembra un Buddha con questa specie di panciera fatta da anguria con il cappellino. È bellissimo. Chi è che ce lo manda? Allora, no, firmati perché non abbiamo il tuo nome. Scrivi chi sei da noi. Mina, 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 eccolo qua, mina, mina. Ottimo, ottimo. Beh, è bellina questa foto qua. È bellissimo. Con l'anguria a forma di pannolino, diciamo, diciamo così. Voi, dall'altra parte, lo potete vederlo perché chiaramente le foto non le possiamo girare. Ma è spettacchiato, vi adoro i bambini così neonati. Mi ricordano me quando ero piccolo perché sembravo lei, piccolo Buddha. Se mi mettevi per te, io ero rotondo. Eri così? Sì, ero, no, ma anche più rotondo ero. Allora, ascolta.